Siamo Matteo? Sì! Roberto, vediamo se sia agganciato bene. Sembrano bello eh? Sembrerebbero bello. Sembrano 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 bello. è vero lui quella là è vero un ruisto si era l'appoggiato marzo sul fondo che si nascondeva è bello ho l'affluzione facciata la pacca però è un murinè che fa millenrat ciao mai un gigging 30 libre sportex non sbaglio è la canna di grossi quella lì ieri accannato è perché non erano grossi ha detto no non li tiro su qui lì eh no ma poi tieni conto che è inverno che tirano meno vuol dire che sicuramente è un bel pesce è un giro che tutto ciò che è un giro è un giro di più di così è un giro di più di così è un giro di più di così è giusto è giusto adesso qua serviranno gli occhiali Roberto eh sì bello bello è agganciato molto benissimo beh in bocca comunque sì in bocca però parte sopra guarda è bello eh è bello 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 è bello